Tolfa Short Film Festival 2013, seconda edizione, ospite d'eccezione June Ishikawa, attrice, ha lavorato con Ermanno Olmi, televisivamente nota per la serie RIS. Come mai sei ospite questa sera, cosa pensi del festival e soprattutto quali sono i tuoi progetti per l'immediato futuro? Allora, io sono qui perché sono stata invitata per la seconda volta da Piero Paccherotti, di cui sono molto contenta e quindi ringrazio anche. Dato che sono rimasta molto colpita dal lavoro che è stato fatto per la prima edizione, sono venuta volentieri anche alla seconda. E anche perché mi piace il lavoro dei festival per la promozione, soprattutto di artisti nuovi e comunque per la promozione del cinema. Dato che se non ci mettiamo tutti quanti in forze, se non uniamo le forze, non si può fare arte. E ora che cosa stai lavorando? Adesso, questa settimana, il 13, uscirà un film in cui ho fatto un ruolo che si chiama Niente può fermarci. La regia è un'opera prima di Luigi Cicinelli. È una commedia sgangherata perché parla di quattro ragazzi, ognuno con una sindrome, che fugge da un manicomio e si ritrova nei Biza. Ognuno per i loro motivi, per cercare un po' di relazione umana. Insomma, faccio un ruolo piccolo, ma pare sia molto divertente. Mentre il 14 presenterò un cortometraggio in cui sono stata protagonista, con la regia di Grazia Tricarico, per la produzione, diciamo, cinematografica del Centro Sperimentale. E poi, per il resto, ci sono diverse webserie in cui ho partecipato, che insomma è un po' il nuovo andazzo, diciamo. E per quanto riguarda le webserie, gli ultimi lavori che ho fatto sono un po' horror, possiamo dire. Perché uno è The Ashers, che è la regia, l'idea è di Andrea Galatà, che è un italiano, ma è una coproduzione perché è coprodotto dall'Inghilterra, Giappone addirittura, e perfino l'Africa, insomma, c'è di mezzo. Per cui è molto particolare. E ho avuto la possibilità di girare sia qui che in Giappone, per cui, insomma, è stato molto divertente. Mentre l'altro è una webserie che speriamo che si faccia, che si chiama Switch, ed è la prima webserie italiana che parla di vampiri. Per cui, insomma, vediamo un po' come andrà. Speriamo, insomma, che festival come il Tolfa possano sempre più avere piede sul panorama del cinema italiano. Ti facciamo gli auguri per il tuo lavoro e ti invitiamo a inviarci anche il cortometraggio a cui stai lavorando per averti nuovamente ospite per la terza edizione. Grazie, speriamo. Ciao, in bocca al lupo.